La fatica di essere giovani, il convegno a cui parteciperà anche Don Claudio Burgio, che cosa sta accadendo ai giovani di questa generazione? Che cosa fa fare loro tanta fatica di vivere? Forse il problema è proprio questo, che non sta accadendo nulla e quindi questi giovani cominciano a rivendicare un ruolo che in qualche modo porta ad escludere il mondo degli adulti, si costituiscono come una società tra pari e quindi purtroppo si lasciano anche vincere dallo stordimento, dal nichilismo, da questo vuoto di senso che in qualche modo è il risultato di una mancata educazione. È una sfida per gli adulti, ma gli adulti ci sono? Appunto, ci sono sempre meno perché l'adulto autorevole è davvero raro oggi e quindi il problema è proprio questo, che ci sono adulti sempre giovani sempre, come dire, compiacenti, molto vicini, non c'è separazione tra le generazioni e questo purtroppo contribuisce a questo stato di situazione dei giovani che si concepiscono ormai come isolati, isolati dal contesto sociale, dal contesto degli adulti e si configurano come una società che vive davanti a un vuoto terribile. Grazie. 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 Grazie.